Buongiorno, bentrovati al primo appuntamento con il Tg6 che apriamo come di consueto negli ultimi giorni con la politica clima da campagna elettorale in Abruzzo, dove le tensioni a livello nazionale nel governo Conte e tra Lega e Forza Italia si riverberano nelle scelte pre-rettorali. L'annuncio della Lega che vuole correre da sola le prossime regionali abruzzesi sancisce ufficialmente la rottura della coalizione di centrodestra, ma attriti si registrano anche in Molise nella maggioranza azzurra che sostiene il governatore Toma, il punto nel servizio di Giovanni Minicozzi. Da Roma al Molise, passando per l'Abruzzo, le maggioranze di governo e quelle che si candidano a governare non stanno attraversando un periodo felice di compattezza granitica. Partendo dalla capitale si registrano frequenti frizioni carsiche tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, i due vice premier di Giuseppe Conte. Nei fatti, Lega e Movimento 5 Stelle sono divisi su molti fronti, anche se sono abili a non fare emergere le spaccature. I due leader, Salvini e Di Maio, sotto sotto lottano per affermare la loro aspirazione di sostituire quanto prima Conte a Palazzo Chigi, passando per nuove elezioni che qualche osservatore prevede a ridosso delle europee del prossimo mese di maggio. In Abruzzo, invece, all'indomani delle dimissioni del governatore Luciano D'Alfonso, il centrodestra, che avrebbe la vittoria in pugno, si è frantumato dopo che il coordinatore della Lega, Giuseppe Bellachioma, ha annunciato di voler correre da solo alle imminenti elezioni regionali, ribaltando così la decisione assunta nei giorni scorsi dal tavolo del centrodestra circa la volontà di restare uniti. Se così fosse, considerato i sondaggi, con il centrosinistra fuori gioco anche per gli errori commessi dal governo D'Alfonso, il centrodestra diviso non riuscirebbe a bloccare l'avanzata dei grillini che potrebbero conquistare così la prima regione d'Italia. Non va meglio in Molise, dove la maggioranza di Donato Toma traballa per diverse motivazioni. L'ultima si è verificata all'interno del Consiglio regionale, dove la leghista Filomena Calenda ha votato come i pentastellati, astenendosi su un provvedimento riguardante le vaccinazioni obbligatorie proposto dal PID. Dunque, vistose tensioni nella maggioranza di centrodestra sotto lo sguardo impassibile e preoccupato del Presidente Donato Toma, sul quale rigadrebbero gli effetti delle spaccature interne. Peraltro, lo stesso Presidente attende con trepidazione la nomina di commissario ad Accheta per la sanità che il Governo ancora non si decide a sbloccare. Il buonsenso accompagna le scelte degli italiani e il banco di prova delle grandi opere dà ragione all'Italia del fare. Secondo un sondaggio, la maggioranza degli italiani è favorevole alla TAV con il 90% degli elettori di Forza Italia ed il 64% di quelli della Lega. Una ragione in più per essere uniti nelle scelte strategiche, quelle che riguardano lo sviluppo e il futuro del Paese. Un'altra occasione per gli amici della Lega per riflettere anche sul voto in Abruzzo. Lo afferma in una nota Maria Stella Gelmini, capogruppo di Forza Italia, alla Camera dei Deputati. Noi parliamo ancora di politica. Le divisioni all'interno della maggioranza palesate nell'ultimo Consiglio Comunale hanno portato alle dimissioni il Sindaco Anna Maria Casini, che lunedì ratificherà la sua decisione. Vediamo il servizio di Alfredo Primante. Parla di tradimento da parte degli alleati il Sindaco di Sulmona Anna Maria Casini, che dopo il Consiglio infuocato di ieri ha rassegnato le sue dimissioni da primo cittadino. Insostenibili le tensioni all'interno della maggioranza, proprio quando si doveva discutere della riclassificazione dell'ospedale di Sulmona a nosocomio di primo livello. Nella lunga lettera in cui spiega le ragioni delle sue dimissioni, il Sindaco punta il dito contro coloro che con lei hanno sposato il progetto civico, ma che, accusa, non hanno avuto la maturità e il coraggio di affrontare in modo deciso i problemi, rinunciando anche alle poltrone. Mi assumo le mie responsabilità anche per loro conto, ha scritto il primo cittadino, con grande dolore e rammarico per tutto quanto avrei voluto continuare a fare per la mia città. Un atto di coraggio, l'ha definito lo stesso Sindaco, che in passato a dicembre 2017 non aveva esitato a presentare le dimissioni, ad esempio per la questione della centrale di compressione del gas in Valle Peligna, salvo poi ritirarle entro i 20 giorni che la legge concede ai sindaci per tornare sui propri passi. 20 giorni dunque, questo è il periodo utile che scatterà da lunedì per rincollare i cocci della coalizione al governo della città ed evitare che a Sulmona si torni di nuovo anticipatamente alle urne dopo appena due anni di consigliatura. A far esplodere definitivamente la crisi di governo sono state le parole di Andrea Ramunno, consigliere di Adesso Sulmona, che, mentre ci si accingeva a votare all'unanimità la delibera per l'ospedale di primo livello, è intervenuto chiedendo le dimissioni della Casini perché il primo cittadino avrebbe disatteso le richieste di una verifica di maggioranza. Solidarietà ad Anna Maria Casini è stata espressa dall'ex assessore regionale Andrea Gerosolimo, il deus ex machina del progetto civico che ha vinto le passate elezioni comunali. Sono e sarò al fianco di Anna Maria Casini, ha dichiarato Gerosolimo. Le sue dimissioni, continua l'ex assessore, rappresentano un gesto di dignità e coraggio per una donna che ha combattuto incessantemente per due anni. Le dimissioni, come detto in precedenza, saranno ratificate lunedì. La sensazione, però, è che questa volta la spaccatura sia troppo profonda per essere ricucita. L'azione dell'amministrazione comunale di Sulmona sino ad ora non ha meritato medaglie, ma tra il fare male e il mollare la barca non c'è differenza perché meriterebbe di essere esplorata pure la terza opzione, che è il provare a far meglio. Inizia così una nota di Massimo Carugno della Segreteria Nazionale del Partito Socialista Italiano a commento delle annunciate dimissioni del sindaco di Sulmona, Anna Maria Casini. Sulmona ha problemi grossi, irrisolti, quali la perdita dei presidi istituzionali o l'arrivo di insediamenti dannosi e pericolosi che, sommati ai tanti altri sul tappeto, prosegue nella nota. Meriterebbero un'azione incisiva di rilancio che provi a riportarla al ruolo che ha esercitato negli anni Ottanta, quando è stata quasi la capitale politica dell'Abruzzo. Abbandonare la guida amministrativa della città di Sulmona, affidarsi a nove o dieci mesi di guida commissariale, ora che ci troviamo di fronte al cambio della guida politica della Nazione e ci avviciniamo al cambio della guida politica della Regione, è totalmente sbagliato, ha concluso Carugno. Parliamo ancora di politica, ci spostiamo a Pescara, un'opportunità per i tre comuni ma anche per gli altri centri limitrofi. La nuova Pescara vede il grande favore dell'ormai ex Presidente della Regione e Senatore, Luciano D'Alfonso e del primo cittadino del capoluogo adriatico Marco Alessandrini. Un'importante riunione si terrà sul tema il prossimo 31 agosto, vediamo il servizio di Stefano Recanati. Senatore D'Alfonso, un'opportunità questa della nuova Pescara che deve dare opportunità anche ai paesi vicini. Ma come ha chiarito il Sindaco Alessandrini, il Presidente Maurizio Di Nicola e anche Marco Camplone, del comitato sociale a sostegno della nuova Pescara, questa è un'opportunità per tutti, però non sarà un giubileo finanziario, a volte ho avuto la sensazione che ci sia l'aspettativa di un giubileo di rubli e di dollari, sarà invece un giubileo di opportunità e di visione strategica. C'è bisogno di concepire una nuova stagione di ambizioni progettuali, qui sta il valore di questa scelta, per la quale scelta io mi auguro che ci sia un vero e proprio doppio riposizionamento culturale, ad opera dei singoli, ad opera degli imprenditori, ad opera della classe dirigente, ad opera anche di ciò che forma i saperi di questa realtà. Io penso che anche le università debbano aiutarci a concepire questo fatto nuovo. Di qui a dieci anni ci deve essere un innamoramento progressivo. Vorrei che questa città diventasse la città della semplicità e della facilità per consentire a chiunque di realizzare il proprio progetto di vita. L'appuntamento ufficiale è già fissato e per il 31 agosto, l'ultimo venerdì del mese, perché si insedia l'Assemblea Costitutiva. Lo prevede la legge. La legge, io penso, rappresenta un passo in avanti nel senso di un realistico intertemporale per fare cose che sono complicate, che non possono essere banalizzate, come oggi va molto di moda in 140 caratteri di un tweet. C'è bisogno di allineare i rispettivi bilanci, le questioni afferenti al personale. Io ho citato l'esempio della toponomastica, perché c'è una via Roma probabilmente in tutte e tre le strade, in tutte e tre, scusate, le città, ma soprattutto c'è da mettersi al lavoro per erogare servizi di area vasta insieme. Lasciamo la politica, parliamo di trasporti. Torna infatti il collegamento su gomma da Roma a Pesco Costanzo. Il Pullman dei Parchi sarà attivo dal 13 agosto al 9 settembre. Vediamo. Torna il Pullman dei Parchi. Partirà infatti il prossimo 13 agosto la rinnovata linea di collegamento tra Roma e il Parco Nazionale d'Abruzzo, che sarà curata da Sangritana S.P.A. Due corse giornaliere, Roma-Pesco Costanzo e Ritorno, con partenza alle ore 7.30 e alle ore 17, che toccheranno tre parchi abruzzesi, il Sirente-Velino, quello della Maiella e il Parco Nazionale. La tratta, che parte da Roma, prevede fermate a Celano, Pescina, Gioia De Marsi, Pescasseroli, Opi, Villetta Barrea, Barrea, Alfedena, Castel di Sangro, Rocca Raso, Rivi Sondoli e Pesco Costanzo. Un servizio richiesto a gran voce dei territori montani, come sottolinea Maurizio Di Nicola, consigliere regionale con delega ai trasporti. È un piccolo segnale, per un piccolo periodo, ma che ci aspettiamo possa diventare stabile, per dare attenzione dedicata al trasporto turistico e a quei territori. Credo che il prezzo particolarmente competitivo di questa corsa potrà agevolarne l'uso e quindi anche tradurre in una soddisfazione per l'utenza questa nostra intuizione. Il rinnovato servizio viene presentato sul mercato con un nuovo marchio, Abruzzo Bus, candidato a diventare il simbolo del comparto commerciale di Tua, società di trasporto abruzzese, realizzato da Sangritana S.p.a. Dopo aver fuso in Tua S.p.a. le tre società pubbliche, Arpa, Tua e Sangritana, si è scelto adesso di gemmare Sangritana per il mercato e per i servizi commerciali affinché potesse avere la flessibilità, la elasticità che deve avere un'impresa che deve competere con i privati di tutti i giorni e sapersi modulare secondo quelle che sono le richieste dell'utenza. Pasquale Di Nardo, amministratore della società Sangritana S.p.a. Sangritana ormai è diventata l'anima che si occupa delle tratte commerciali. Qual è il progetto per il 2019 di questa società? È l'iniziativa, è il battesimo per quelle che sono le attività turistiche che testeremo, l'attività messa in campo ed eventualmente riproporla con i miglioramenti, con i suggerimenti che potranno venire in questi 30 giorni di sperimentazione per poter immaginare al ripristino delle attività turistiche invernali di poterci riproporre. Mi sembra che ci siano tutte le condizioni per poter guardare in termini positivi ad un risultato altrettanto positivo. Cambiamo pagina sul metanodotto Larino Chieti, il comitato Noab Gas mostra la sua soddisfazione dopo le parole del ministro dell'Ambiente Costa. Ora ci si augura che il ministero analizzi tutte le criticità del progetto. Vediamo. C'è soddisfazione e ottimismo rispetto al cambio di rotta del ministro dell'Ambiente Sergio Costa sul gasdotto Larino Chieti. Il coordinamento Noab del gas si è battuto contro quelle che riteneva le gravissime responsabilità del governo Renzi e Gentiloni sul decreto sblocca Italia pro fossili, sull'aggiramento della valutazione ambientale strategica sulla rete dei gasdotti che a detta delle associazioni ambientaliste andavano contro gli interessi dei territori, favorendo le grandi aziende petrolifere. Oggi il governo gialloverde sembra deviare dal percorso già avviato, ma il coordinamento non è intenzionato ad abbassare la guardia. Siamo sicuramente positivi, è una notizia assolutamente positiva, è una notizia che apre una strada, questo noi ci auguriamo, una strada che sia di riflessione nei confronti di progetti che sono progetti estremamente impattanti, questo è l'elemento fondamentale. Noi ci auguriamo che da qui ai prossimi giorni ci sia la possibilità di rianalizzare, di sottolineare tutte le criticità del progetto. Il punto è che noi immaginiamo che queste opere siano interamente finanziate dai privati, no non è così e sono opere non a servizio in realtà poi dei cittadini in modo diretto. La questione dello stoccaggio, degli stoccaggi è una questione che è di rimente in questa vicenda del gas perché sappiamo bene che questi metanodotti, molti di loro, questo ad esempio della Rinocchieti, servirà a ornire degli stoccaggi che di fatto hanno la funzione di stoccare appunto, come dice la parola stessa, gas che viene comprato quando a costi bassi per essere poi rivenduto nel nord Europa. Ecco trasformare l'Italia in un hub del gas non la consideriamo come dire un'opportunità per i cittadini, la consideriamo un'opportunità per le grandi imprese. Il gasdotto Larino Chieti, della lunghezza di 111 chilometri, interessa ben 26 comuni tra Abruzzo e Molise, comprese tra le province di Chieti, Pescara e Campobasso, toccando aree protette, siti di interesse, oltre ad importanti distese di vigneti e uliveti, grandissima risorsa delle due regioni. Un'analisi, se vogliamo, molto limitata, quella che è stata condotta da parte degli organi ministeriali, noi riteniamo e se vogliamo anche dagli organi regionali che sul metanodotto Larino Chieti hanno espresso invece un parere positivo, contrariamente a quello che invece noi abbiamo sostenuto, ad esempio l'attraversamento di culture di pregio, sono 111 chilometri di metanodotto che solcano il nostro meraviglioso territorio e che di fatto non hanno la strategicità se vogliamo dei nostri vigneti, perché quel tipo di metanodotto, come ben sappiamo, non serve a fornire le utenze domestiche o privati, ma sappiamo bene che serve a unire degli stoccaggi. E ora parliamo della Via Verde, il tratto dimostrativo di mezzo chilometro della pista ciclopedonale lungo la costa dei Trabocchi. Non si farà più, la ditta appaltatrice sta lavorando infatti per arginare le frane, per ora resta fuori dal progetto Lago Dragoni di Torino di Sangro, alle prese con problemi di erosione. Interruzione dei lavori lungo l'extracciato ferroviario solo nella settimana di ferragosto, nell'obiettivo di consegnare al più presto l'attesa pista ciclopedonale. Inizialmente si era pensato di interrompere i lavori per tutto il mese, dunque in altissima stagione per evitare uomini, ruspe e mezzi al ridosso dell'affollato litorale, ma i tempi stringono e dunque si procede sui quattro fronti della Via Verde, tranne che nei due chilometri e mezzo di Lago Dragoni a Torino di Sangro, dove l'erosione meriterà un capitolo di spesa a parte. Lago Geppri di Guardia Grela è capofila di un raggruppamento temporaneo tutto abruzzese, costituito da diverse costruzioni di Montesilvano, Tenaglia di Casoli, strade ambiente di Chieti ed Euroimpianti di Atessa, stanno operando su quattro fronti contemporaneamente. Ortona San Vito, San Vito Fossacesia, Fossacesia, Torino di Sangro e Casalbordino Vasto, tempi di consegna 592 giorni. Già effettuata la pulizia del tracciato, si è proceduto al livellamento del percorso e in molti casi al risanamento delle frane. Successivamente si procederà alla posa dell'asfalto e a relative resine e segnaletiche. Si pensava di consegnare entro Ferragosto un piccolo tratto di via verde lungo meno di 500 metri, che vedete nelle immagini tra la foce della Rocca e il trabocco di punta isolata, a scopo dimostrativo, ma il collaudo parziale per utilizzare subito l'infrastruttura è stato rinviato. Tutto questo mentre servirà un piano di manutenzione delle scogliere di cui la Regione dovrà farsi carico. Sono numerosi infatti i punti di dissesto, il più grave come già detto a Torino di Sangro. Il neosindaco Nino Di Fonso ha avuto nei giorni scorsi un incontro in Regione, ma per adesso preferisce non parlarne con la stampa, non inserendo stranamente l'argomento in cima alle sue molte priorità. Misteri di mezzo agosto. E ora parliamo di solidarietà. L'associazione culturale Federica e Serena, nata con lo scopo di mantenere vivo il ricordo di Federica Moscardelli e Serena Scipione, studentesse di medicina, vittime del terremoto che ha colpito l'Abruzzo il 6 aprile 2009, ha devoluto il ricavato della settima edizione della manifestazione note su Ali di Farfalla all'associazione Atriana Abilbait. Quest'anno abbiamo devoluto il ricavato di quella che è stata la settima edizione di note su Ali di Farfalla all'associazione Abilbait, una onlus di Atri, il cui presidente è Manolo Pelusi. Siamo molto felici di questo traguardo perché appunto è il settimo dopo tanti anni, dal 2009 sostanzialmente noi facciamo queste attività e sono tutte attività dedicate alla memoria di Federica e Serena che sono due ragazze appunto, il cui nome lo porta appunto l'associazione che si chiama Federica e Serena che sono rimaste vittime del terremoto all'Aquila, erano studentesse di medicina, Serena Scipione di Bisenti e Federica Moscardelli di Montorio. Tutte queste attività ogni anno hanno portato al raggiungimento di un traguardo per noi importantissimo, quest'anno infatti devolviamo 3.000 euro, non saranno una cifra esorbitante però per noi è veramente tanto perché abbiamo poi organizzato queste attività mettendocela tutta e poi è stato un grande arricchimento per noi perché siamo stati in grado e abbiamo avuto la fortuna di riconoscere comunque delle realtà che molto spesso sono fuori dalla portata degli occhi quotidianamente. Il prossimo appuntamento sarà la prossima edizione di note suali di farfalla notte per Federica e Serena che ci sarà l'8 settembre al Chiostro Madonna delle Grazie a Teramo. Ospiti saranno la cantotrice rock Cristina Donà e Filippo Graziani, figlio dell'indimenticabile Ivan. Questa serata sarà corredata da tante sorprese e il ricavato delle attività di quest'anno andrà all'Associazione Carrozzine Determinate Abruzzo. E ora andiamo a Lanciano perché sono terminati i lavori di riqualificazione del primo tratto del corso. Il cantiere riaprirà dopo le feste di settembre. Arrivederci a settembre dopo l'appuntamento con le festività patronali, col corso di Lanciano dal nuovo look che non vedrà più operai al lavoro sotto lo sguardo vigile e curioso dei lancianesi. Loro sono ora in vacanza. Realizzati sinora circa 250 metri col sontuoso disegno della presentosa che ha letteralmente diviso la cittadinanza, manca di completare l'opera sia verso piazza Plebiscito che verso Villa delle Rose per tutta la lunghezza dunque di corso Trento e Trieste. Molto presto verranno smantellate le transenne, comprese la griglia 80x80 che delimita una calitoia di raccolta delle acque meteoriche. Dunque il cantiere sarà riconsegnato per svolgere le attività più importanti dell'estate lancianese dalla settimana medievale di fine agosto con l'appuntamento la prima domenica di settembre del Mastrugiurato, la fiera di Sant'Egidio, il clu con le feste di settembre. Il nuovo corso Trento e Trieste secondo le intenzioni dei progettisti farà scuola grazie ad una visione del tutto nuova dello spazio pedonale ricoperto da una pavimentazione di impatto che ricorda appunto la presentosa l'antico gioiello abruzzese. La passeggiata una volta completata si svilupperà su 5600 metri quadri da Piazza Plebiscito ai Viali delle Rose. Per adesso è pronto un sostanzioso assaggio. Buonestate a tutti sul nuovo corso. E ora apriamo la pagina dello sport e del calcio in particolare per parlare del Pescara e della cessione praticamente ufficiale del difensore Francesco Zampano al Frosinone. Zampano 24 anni dunque giocherà nella prossima stagione in serie con la squadra Ciociara. Al Pescara 2 milioni di euro più il cartellino di Matteo Ciofani centrocampista trentenne abruzzese Doc. Domani intanto per il terzo turno eliminatorio di Coppa Italia Team il Pescara scenderà in campo alle 18 al Marcantonio Bentegodi di Verona per affrontare il Chievo. Ed è bagarra anche invece per quanto concerne la Serie B e il numero delle squadre che dovranno partecipare al prossimo campionato. La Lega ha stabilito che saranno 19 lunedì e ci saranno i calendari del torneo cadetto ma le formazioni escluse dai ripescaggi promettono battaglia. Vediamo il servizio. Nelle prossime ore andrà in porto ufficialmente in Casa Bianca Azzurra una cessione eccellente che di fatto però è già conclusa. Il Frosinone sfumato Olaina per rinforzare le corsie esterne del settore arretrato ha infatti acquistato dalla formazione adriatica Francesco Zampano sei presenze nell'ultima Serie A con l'Udinese dove nella passata stagione si era trasferito in prestito da gennaio. Al Pescara vanno due milioni di euro e il cartellino del trentenne centrocampista Matteo Ciofani Abruzzese Doc. In entrata per il settore arretrato i dirigenti del Pescara stanno seguendo con insistenza il jolly difensivo del Carpi Alessio Sabbione. Il giocatore classe 91 non rientra nella lista degli incedibili della società emiliana. Sulla difensore ci sono però anche altre società. Intanto il Delfino in attesa dell'arrivo di Cristian Capone, l'attaccante classe 99, firmerà prima l'adeguamento del contratto con l'Atalanta e quindi sarà ceduto in prestito ai Biancazzurri. Andrà via da Pescara Cristian Bonino che approderà alla Juventus B. Il Pescara per sostituirlo pensa sempre all'attaccante della Lazio Alessandro Rossi. Intanto sembra essere arrivata ad una svolta la querelle che riguarda il numero di squadre che parteciperanno al prossimo campionato di Serie B. Ieri sera infatti la Lega Cadetta ha comunicato che i calendari del campionato 2018-2019 saranno resi noti a Milano nella sede di Via Rossellini lunedì alle ore 19 con l'organico previsto a 19 squadre. La Lega B, inoltre scritto sulla nota diffusa alla stampa, si riserva ogni azione in ogni sede nei confronti di tutti coloro che si sono resi e si renderanno responsabili di condotte e comportamenti e azioni antigiuridiche illegittime e pregiudizievoli nei confronti della Lega e delle società associate. Le squadre non ripescate sono però pronte a dare comunque battaglia in ogni sede. Tornando al calcio giocato, domani i Biancazzurri saranno in campo per il terzo turno eliminatorio di Coppa Italia Team. La squadra del presidente Daniele Sebastiani sarà di scena a Verona per affrontare alle 18 il Chievo guidato da Pillon nella stagione 2005-2006. Chi passerà il turno affronterà la vincente della sfida. Cagliari-Palermo. Siamo al Teramo e dunque al campionato di Serie C. Il centrocampista bianco-rosso Andrea Spighi di rientro dal prestito a Catanzaro con le buone prestazioni nelle amichevoli precampionato e nella prima uscita di Coppa con la Fermana ha guadagnato la stima del tecnico Zichella e si candida così ad avere un ruolo da protagonista nel campionato che sta per iniziare. Jacopo Forcella. Abbiamo detto a Zichella e lui era d'accordo. Spighi tra i più positivi della gara con la Fermana. Siete d'accordo anche te? Maggio di sì. Sì, ho fatto una buona partita. Diciamo che mi hanno fatto tutti una buona gara. Poi è normale che non sono al 100% però già a disputare 70 minuti questa intensità sono molto contento perché comunque vengo da qualche problemino che mi porto dietro. Stiamo cercando in tutti i modi di guarirlo e siamo sulla strada giusta. Noi sicuramente potremmo fare meglio ma ci stiamo imparando a conoscere. Infatti forse lì davanti alle altre quarti possiamo fare meglio. Però è normale che siamo molti giocatori nuovi e quindi le giocate ancora devono venire. Però credo che è una gara che può solo pensare al futuro in positivo. Vieni di ritorno da un prestito, torni a Teramo e stai vivendo un'estate e hai vissuto una prima parte dell'estate un po' particolare. Sembrava che Spighi dovesse ritornare subito sul mercato e invece Spighi non solo è rimasto ma la prima fa già vedere buone cose. Che estate è stata fino a questo momento per te? Io ho fatto un anno in Calabria, a Catanzaro, molto positivo personalmente. Poi sono venuto qua e mi hanno convocato. Sono venuto con la testa giusta, col pensiero di poter dimostrare quello che non ho potuto fare per colpa mia ma purtroppo per il mio problema fisico. Quindi ne sono stati un po' di pensieri perché aspettavo questa chiamata. Poi credo di aver dato un buon segnale al mister e adesso faccio parte del Teramo e sono un giocatore di questa squadra e pronto a dare il massimo. Mirko, tu praticamente hai conosciuto tre Teramo diversi da quando sei arrivato. Questo come ti sembra rispetto agli altri due? Io in passato sarà perché il Teramo si doveva salvare. Quindi cercavano di, il presidente di salvare il possibile nell'immediato. Siccome è un tifoso, ci crede, ci tiene. Quindi ho visto molta fretta. Invece quest'anno vedo più organizzazione, vedo una squadra costruita bene con dei giovani molto bravi che hanno voglia di imparare dai più vecchi, calcisticamente parlando. Quindi vedo un'organizzazione generale che mi fa ben pensare. E ora scendiamo ancora di un gradino. Siamo in Serie D per parlare del Real Giulianova che dopo il buon galoppo con il pescare nemichevole Alfadini guarda con fiducia la prossima stagione. Arriveranno altri rinforzi, lo ha assicurato il presidente Bartolini. Sicuramente un terzino dalla Francia ma anche altri rinforzi. Andiamo dunque ad ascoltare ai nostri microfoni le parole del presidente del Real Giulianova, Luciano Bartolini. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, abbiamo divertito, ci siamo divertiti in tribuna, facciamo un buon calcio. Ho visto che la squadra si sta amalgamando bene e quindi penso che siamo a un buon punto. Sono fiducioso anch'io, cercheremo di fare il meglio. Poi le prime partite di Coppa ci diranno dove siamo arrivati e qual è il cap da colmare per affrontare un campionato di Serie D al meglio possibile. Verrà un terzino sinistro fuori quota, verrà dalla Francia, dal Paris Saint-Germain. Ha giocato con il Lugano per due anni, ce l'ha indicato Peppe Manari. Ce n'è anche un altro giocatore che era stato acquistato dalla Juventus qualche anno fa, ha avuto un'infortunio, quindi stiamo cercando di portarlo a Giulianova. È una cosa che dico qui in anteprima. Cercheremo di fare qualche scommessa, di portare qualche giocatore eclettico, qualche giocatore che possa fare la differenza per far divertire il nostro pubblico. L'obiettivo è salvarsi il prima possibile, come ho detto, poi quello che riusciremo a fare lo dirà il campo. Se riusciremo a fare i play-off ne saremo ben felici. Penso che sarà un successo incredibile. Il primo anno di Serie D riuscire a centrare questi obiettivi penso che sia una cosa fantastica. Ci sono realtà molto più importanti delle nostre in questo momento, però il Real Giulianova sono due anni che esiste e penso sia una delle squadre più vincenti d'Italia. Ed è tutto per la prima edizione del TG6. Come sempre vi ricordo il secondo appuntamento con l'informazione sulla nostra rete questa sera alle 19. Grazie per averci seguito. Buona giornata.